La Menci, azienda metalmeccanica di Castiglion Fiorentino, è a caccia di saldatori e per questo apre alla formazione di disoccupati di ogni età. L'obiettivo è quello di preparare il personale esperto nella saldatura TIG e MIG dell'alluminio finalizzato all'acquisizione del patentino. Ad organizzarlo è l'azienda con il patrocinio sia dell'Agenzia del Lavoro Randstad multinazionale olandese che del comune di Castiglion Fiorentino. Dopo l'uscita dalla crisi mondiale del 2008, fanno sapere dall'azienda, la Menci è diventata il primo produttore italiano di veicoli industriali. Negli ultimi cinque anni abbiamo predisposto ben 9 milioni di investimenti, per questo c'è la necessità di trovare saldatori specializzati da inserire nell'organico. Il corso è rivolto a persone in cerca di occupazione, prevede 148 ore di formazione, articolate in quattro moduli tra teoria e pratica. La partecipazione è interamente gratuita, il numero massimo di partecipanti è di 12 candidati. Al termine dell'evento formativo i partecipanti sosterranno un esame di certificazioni e a quelli che avranno conseguito i risultati migliori verrà offerto un contratto di lavoro tramite agenzia. Le selezioni si apriranno lunedì 25 giugno e termineranno il 27 luglio.